Siamo con l'assessore Otello Bergamo qui a Jesolo, buonasera caro assessore, sei voluti a trovarla qui al comune di Jesolo per commentare alcuni fatti molto importanti della nostra attività politica, io comincerei subito con Salvini non sfonda, crolla il Movimento 5 Stelle, questo dato che ha visto Forza Italia fare un buon risultato in Calabria è un po' meno bello in Emilia Romagna, a lei il commento assessore? Sicuramente l'Emilia Romagna tradizionalmente è una regione per così dire di sinistra e che questa volta ha avuto un risultato per quel che riguarda il centro-destra particolarmente significativo, tanto il fatto vero è che i risultati del centro-destra sono assolutamente di livello in una regione tradizionalmente di sinistra, però leggendo tra le pieghe si vede una sostanziale scelta da parte dell'elettorato mio modo di vedere, di premiare quella che è la parte più moderata, la parte più moderata, la parte più moderata, il mondo liberale e soprattutto c'è stato poi un trasferimento mio modo di vedere di voti appunto moderati verso il presidente cosciente, anche perché la gente ha paura, sì, in Emilia Romagna hanno andato al PD perché c'è una... Ma più che il PD secondo me è la figura proprio del presidente che effettivamente ha lavorato molto bene e quindi c'è stata diciamo una posizione da parte della Lega e di Salvini di metterlo su un piano nazionale e la gente ha scelto una moderazione. Vediamo invece cosa dice Berlusconi, Berlusconi dice adesso si riparte noi centrali nella coalizione appunto del discorso che facevamo sul fatto che come dice anche Tajani è importante tornare a una ponderata riflessione e a un liberalismo un po' più sociale, tranquillo, non esagitato. A lei la parola, Assessore. Beh, sicuramente tra le analisi del voto c'è un dato importante, tra europei 2019 e regionali 2020 in Emilia Romagna la Lega ha avuto una flessione dell'1,8%, che è un dato significativo che non tutti hanno letto. Sicuramente all'interno della coalizione serve una forza moderata e di centro che vada a essere, per così dire, di garanzia. Continuiamo con la nostra lettura, ma anche perché c'è un problema locale, lei Assessora Jesolo, la sabbia marina per riparare le spiagge, vongole a rischio. Questo è un argomento importante che va intralacciato anche con un altro argomento poi della conferenza dei sindaci che hanno visto anche protagonista del comune di Jesolo per i ripascimenti e quindi chiedere sostanzialmente al governo e alla regione un contributo per questo ripascimento. Però crea un problema perché c'è stata una protesta dei vongolari perché sostanzialmente dicono Gianni Stivale, gli altri, il cogevo, dicono attenzione a mettere troppa sabbia perché il colonioto chiede più sabbia, però gli altri dicono, quello di Carle, piano perché se mettiamo troppa sabbia andiamo a fare dei danni alle vongole. Qual è la sua posizione a riguardo? La nostra posizione, la mia in particolare modo di amministrazione è quella di una soluzione che sia strutturale il problema. Noi non possiamo, un'economia come la nostra, pensare a essere in mano ogni anno a situazioni di emergenza. Bisogna pensare a una soluzione strutturale con dei pennelli fissi che hanno la funzione in pratica di andare a salvaguardare la nostra spiaggia. Io quando circa 40 anni fa, che ero piccolino, i miei mi portavano in spiaggia a Cortellazzo, c'era una distesa di, c'era addirittura un lago tra l'ingresso della spiaggia e la bandigia. Lago hanno tolto tutto, poi qui a Iesolo, laggiù del villaggio Marzotto, abbiamo veramente una fettina. E l'ha probabilmente dovuta anche alla scelta che è stata fatta di togliere le soffolte e quindi quella barriera di sasso che c'era a 93 e questo probabilmente ha provocato questo. Bisognerà stare atetico per via delle vongole, ma che manchi sabbia sicuramente, manca sabbia, assessore, sono d'accordo con lei. Andiamo avanti. Lei è anche assessore alla sicurezza. Io ho visto sui giornali, perché ho fatto una ricerca in questi ultimi giorni, che sono aumentate molte multe e le sanzioni che anche a Meolo, ma anche qui a Iesolo, ovunque a Portogruaro, sono incassati notevolmente, aumentati di molto le entrate per le multe. Un commento, servono? Beh, diciamo, servono non tanto, non solo per fare cassa, ma effettivamente, visto anche quello che succede sulle strade, penso che ci deve essere un inasprimento di quello che è il controllo, soprattutto per quanto riguarda l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebrezza e, a mio modo di vedere, anche un inasprimento serve delle norme, proprio a livello nazionale. Perché chi è al volante ha una responsabilità, ha una bomba in mano e quindi deve sagolarare la vita propria e anche quella degli altri. Quindi io penso che l'aspetto delle multe... Cosa fate voi a Iesolo con le multe, ad esempio? Beh, diciamo che c'è un obbligo di legge di andare a spendere una percettuale di queste multe per la sicurezza urbana e poi, diciamo, con le multe comunque andiamo a fare delle iniziative su sicurezza importanti. Abbiamo appena comprati e preso la seconda unità, Cino, fila basco per controllare la droga. Ecco lì, magari faremo la puntata a parte, quella sul cane che mi interessa molto, sul cane e anche di droga, perché c'è un'altra notizia, ecco, allarme droga in Veneto parte il piano da 4 milioni. Lei ha, con le multe, ha dotato la città di telecamere, ma anche di questi cani che trovano la droga. Mi faccio una riflessione sull'allarme droga in Veneto, Assessore Bergamo. Beh, l'aspetto della droga è... Allora, innanzitutto, per quanto mi riguarda, io sono un proibizionista della droga, perché è inammissibile pensare a... Penso come lei. Assolutamente, è una follia, quella di rendere, diciamo, legale l'utilizzo della droga, cioè è veramente qualcosa che va in entitesi proprio anche col concetto poi di salvaguardia della salute dei cittadini e di salvaguardia anche... Proprio anche, dico, non solo della salute, che è la prima cosa, è la dieta delle persone, perché è qualcosa di unico, ma anche poi, non è assolutamente vero che andando a liberalizzare si va a colpire la criminalità organizzata. No, assolutamente. Ma su questo faremo una puntata a parte, Assessore Bergamo, perché mi interessa molto il concetto che lei usa qua, come dire, sono i soldi delle multe per potenziare il sedizio antidroga di videosorveglianza con i cani. Merita una puntata a parte. Invece sulla salute è importante quello che dice, diciamo, la proposta dell'ex sindaco di Iesolo Calzavara, che ora è della Lega con Zaia, quindi diciamo ha un'opinione diversa da come l'ho conosciuto da sindaco. Nuovo ospedale, io ci credo, parla del, sì, dell'ospedale e dice che bisogna chiudere, bisogna fare un nuovo ospedale che serve anche la città di Iesolo e io sono d'accordo su questo, perché Iesolo ha bisogno di un ospedale, ecco, però quelli di Portogruaro sono un po' in disaccordo e anche quelli di San Donato. Qual è la sua opinione al riguardo? Secondo me il presidio ospedaliero di Iesolo deve rimanere, deve essere un punto corso assolutamente di livello, potenziato a questo punto di vista, con un quantitativo di anche posti letto per quel che riguarda dei ospedali. Io farei proposte con i piedi per terra, quindi è stato fatto un progetto importante sul ospedale di Mestre che è un'eccellenza e andare a pensare oggi di nuovi ospedali penso che sia lanciare un sasso nello stagno. Lei la vede in maniera diversa per la Calzavara? Ma io per quanto riguarda il casaleo di San Stino, a mio modo di vedere, deve rimanere dov'è e anche soprattutto deve essere potenziato, valorizzato. Anche lì faremo un'altra puntata. Benissimo. E per quanto riguarda l'ospedale di un nuovo ospedale? E invece dell'ospedale questo è importante. No, io l'ospedale a Iesolo, io lo voglio, voglio che rimanga, venga potenziato Iesolo. Andiamo a vedere cosa dice Calzavara sull'ospedale, poi anche qua merita sicuramente un approfondimento, perché a un certo punto dice, ecco qua la domanda della collega giornalista, del collega fa, se si farà il nuovo ospedale, le strutture attuali di San Dona e Iesolo andrebbero smantellate? Sì, dice Calzavara, si tratta di aree importanti dal punto di vista urbanistico. Per San Dona potrebbe esserci una vocazione residenziale, dice. L'ospedale nuovo non è stata una butata elettorale, dice Calzavara, proprio per questo non viene discusso in questi mesi, quando tutto rischia di essere mistificato. Diciamo che comunque cinque anni fa c'era qualcuno che diceva sia l'autostrada del mare in campagna elettorale, sia le soluzioni strutturali per la pineta. Io non ho visto né l'autostrada del mare né le soluzioni strutturali per la pineta. Adesso si interviene sull'ospedale, temo che fra cinque anni non vedremo neanche quello. Quindi io farei proposte diciamo che stanno qui. Allora torniamo a noi, torniamo a Jesolo e questa mattina sto facendo vedere le immagini con il drone del centro di Jesolo perché ovviamente adesso è freddo quindi il mare lo sanno stare, ma il centro è bellissimo, è bellissimo e poi ho scoperto questa navigazione fluviale che mi diletterò ad approfondirla anche questa navigazione tra il canale Caveta, il Piave, il Sile. Beh c'è il vecchio progetto elettorale a Veneto. Volevo fare una domanda a punto di vista della cultura, Sessore. Cosa c'è di bello da vedere a Jesolo? Che iniziative culturali sta organizzando? Beh allora adesso avremo a brevissimo Antonello Venditti nel mese di marzo con un grandissimo concerto, avremo Marrakesh ma poi avremo anche poi il Balletto del Sud nella costa e tante tante iniziative che ci daranno diciamo il là poi per l'avvio della stagione estiva. Quindi grandi concerti con la finalità di portare una cultura che sia poi più possibile a tutto ottobre. Recentemente abbiamo avuto il professor Gallimberti ma anche Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica. Quindi è molto molto folta. Grazie cari amici telespettatori, buonasera alla prossima puntata.